Scatta l'operazione Interforze a Comiso. Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale impegnate in attività di controllo e contrasto all'abusivismo commerciale con l'obiettivo di tutelare i lavoratori regolari che soprattutto in questo periodo di crisi subiscono puntualmente perdite a causa delle vendite abusive. Durante l'attività di controllo un agente di polizia è stato anche aggredito fisicamente riportando lesioni non da poco conto. Su quanto accaduto è anche recentemente intervenuto l'assessore alla Polizia Municipale di Comiso, Dante Di Trapani. Un plauso alle forze di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che ieri mattina, a ferma Di Trapani, hanno dato il via a una decisa attività di controllo del territorio in materia di abusivismo commerciale. Un'operazione che lancia un preciso segnale alla collettività, le istituzioni ci sono e sono a fianco dei lavoratori regolari. Nel corso dell'operazione, aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari, un agente di Polizia di Stato ha riportato una lesione personale. A lui in particolar modo e a tutti gli uomini coinvolti nell'operazione vanno i nostri ringraziamenti e la solidarietà di tutta la giunta municipale per l'aggressione verbale e fisica subita per mano dei titolari di un'attività commerciale totalmente abusiva e già ampiamente sanzionata in passato. Alle dichiarazioni si aggiunge anche quella dell'assessore all'attività produttiva Giuseppe Alfano, le istituzioni se da un lato debbono prendere atto del dramma sociale che attenaglia tanti concittadini, dall'altro non possono assistere in ermi alla morte commerciale di chi lavora in regola pagando le tasse, sobbarcandosi fitti, spese e costi del lavoro che invece i lavoratori abusivi non sostengono, dando vita a una vera e propria concorrenza sleare che se non combattuta non solo massacra il tessuto sociale ed economico delle nostre città ma mette a repentaglio anche la salute del consumatore che si trova ad acquistare merce non tracciabile depositata in siti o locali insalubri e dalla provenienza più che dubbia. Grazie. Grazie. Grazie.